allora era venuta al nostro hot corner addirittura tre anni fa dopo sei andata in giro così paola minaccioni finalmente benvenuta come stai molto bene finalmente finalmente sei stato tutto sto tempo ma guardi sono in giro vedo gente faccio allora questa volta sei venuta qui al nostro hot corner a fracassi in fabolo porso magenta perché sei a milano per l'attesa si ho la gioia di avere portato qui in questa città che la città del teatro possiamo dire dove ancora resiste una ottima cultura teatrale lo spettacolo l'attesa che è certamente forse il progetto teatrale che più mi ha gratificato in questi anni che mi ricorda ogni sera al motivo per cui volevo fare questo lavoro ecco e che scusa se mi permetto tu hai visto da spettatrice giusto esatto io ho avuto per questo poi è stato un colpo sì perché io nell'unica messa in scena che c'è stata prima di questa di michela cescon c'erano due attrici incredibili che sono elisabetta pozzi e maddalena crippa per la regia di cristina pezzolio altre grandissima regista teatrale purtroppo maturamente scomparsa e io ero una bambina che iniziava così a guardarsi intorno volevo certamente fare l'attrice e questo è molto pochi guarda ma adesso non mi ricordo ma proprio a forse 15 guarda nel 94 forse avevo dieci anni no sto scherzando è vero e sono per tirare no ero già una studentessa quindi l'ho già diplomata avevo superato sicuramente 18 intorno ai 20 22 23 iniziavo e questo spettacolo mi folgorò mi ricordo al valle tra l'altro le due attrici si scambiavano i ruoli perché le protagoniste sono una morbidonna una serva loro due si scambiavano i ruoli io penso veramente ma penso sia follia follia pura adesso che lo faccio lo spettacolo però fu uno di quegli spettacoli proprio che hanno segnato hanno segnato la mia identità corazioni si guarda io mi ricordo bene questo poi mi ricordo un altro spettacolo di altro genere che il bar sotto il mare di stefano berni messo in scena dai broncoviz ovvero carla signoris ugo di gheron marcello cesena e maurizio 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 ma mi viene il nome maurizio maurizio il marito di carla signoris una volta tanto diciamo che lui è il marito di genio maurizio crozza il marito di carla signoris anche uscendo da quello spettacolo detto io sono uscita stavo col braccio così ho detto io voglio fare quello quello voglio fare voglio fare quello quindi già così capisci dentro di me cosa c'è no c'è il bar sotto il mare broncoviz e la comicità e poi c'è l'attesa il dramma i personaggi tragici c'è tutto il fatto approcciarti a proprio quello spettacolo perché la responsabilità era anche grande cioè mettere in scena la folgorazione che hai avuto tu tanti anni fa o non ci hai pensato più di tanto no allora è successo questo intanto che questo progetto nasce da un'amicizia da un legame che si era già un po creato tra me anna foglietta che con cui condivido il palco con molta gioia e michela cescon quindi michela ci aveva detto sarebbe bello fare un progetto insieme quindi noi stavamo un po elaborando ci siamo un po annusate frequentate così quando cercavamo il testo e non è semplice purtroppo ancora oggi lo dico per tutti i drammaturghi che magari ci stanno seguendo trovare un testo che abbia due personaggi femminili protagonisti con un arco narrativo significativo e quindi ci abbiamo messo un po poi all'improvviso michela ci propone l'attesa io sono rimasta un po scioccata perché mi sembrava cioè mi sembrava strano no di tutti gli spettacoli che esistono proprio l'attesa serendipiti sono andata a rileggerlo ho riletto l'attesa perché ovviamente abbiamo lei ci ha subito fatto rileggere il copione che non esisteva è stato stampato grazie alla nostra produzione alla dioniso è stato stampato finalmente il testo dell'attesa non era non era possibile leggere questo testo e quando l'ho riletto io ho sentito subito rosa cioè ci sono dei ho sentito subito che io ero che era che io ero lo strumento che avrebbe potuto far suonare rosa anche se ovviamente la lingua perché rosa parla in veneto un pochino cioè ma guarda sono stata abbastanza fatalista ho detto vabbè questo è il veneto sono diretta da una grandissima regista che ha un'attrice con un grandissimo gusto che è michela cescon che tra l'altro abbiamo appena visto il mio sono l'abisso grandissimo ruolo bellissimo francis mcdormand esatto e io ho detto veramente ho fatto complimenti a migliare perché quel film a lei l'ha girato mentre faceva le prove mentre mentre all'estiva l'attesa non eravamo unica e anche per figli noi avevamo 18 giorni di prova all'auditorio non sto scherzando in 18 giorni impara la memoria due ore di testo in veneto e poi sai devi avere il ritmo deve avere anche quindi non è facile il sottotesto e mentre io faccio questa cosa cioè io sempre diretta da lei lei nel frattempo andava su a coma mi sembra girare questo film e anna anche girava una serie internazionale quindi devo dire altro che charlie's angels fantastico foglietta c'è sconda senti paolo prima tu ne parlavi che effetto ti fa stare a teatro della gente alla fine all'inizio è il motivo per cui fai questo mestiere si è il motivo per cui faccio questo mestiere ogni volta che io riesco a trovare l'emozione prima di salire sul palco se no no sento l'emozione quando si debutta quando un progetto nuovo si poi dopo c'è la cioè io mi sento molto a mio agio sul palcoscenico anzi ci ha tolto e sto molto più tranquilla sul palcoscenico che nella vita veramente perché alla fine il palcoscenico intanto è un luogo sacro in cui tutti i segni diventano condivisi cioè un posto in cui veramente si fa una sorta di messa comunione no perché tu ti accomuni provochi una catarsi dei sentimenti delle riflessioni senti gli occhi addosso senti che sei compreso capito ti senti molto amato sul palcoscenico in più sai già cosa vuole il personaggio doveva cosa farà quali saranno il vero sotto controllo di tu in realtà si tu in realtà sei molto padrone e la cosa straordinaria questo però mi viene forse dopo tanti anni di esperienze anche di esperienze diverse perché ho fatto sia le serate di cabaret nei ristoranti ho fatto le feste dell'unità con i ragazzini giocavano mentre non ti sentiva nessuno ho fatto il carcano come ho fatto che ne so siamo andati al carignano di torino fatto i grandi classici e i posti più trash dove vai a combattere per portarti a casa la serata come si sente in termini tecnici no e quindi in realtà quando sto in un teatro protetta con quel con quella bella scenografia con una compagna dei giochi come anna io mi sento totalmente a mio agio c'è tipo disneyland praticamente è proprio il tuo posto quanto è sofferto durante il lockdown per questa per questa distanza parlavamo che con vinicio marchioni che è stato qui lì c'è stato anche un momento in cui l'attore capisce esattamente no che quasi come se ti mancasse l'aria allora io pensa ho interrotto la tournée di mine vaganti non eravamo in giro abbiamo dovuto interrompere perché si chiudeva nei teatri e per me è stato un processo diverso io mi sono confrontata con la mia casa che era vuota nel senso che io ho fatto tre mesi da sola e ho scoperto in quella esperienza intanto quanto poi il caos e tutta questa socialità e stare sempre in mezzo alla gente correre da una parte all'altra in realtà mi facesse sentire sola tanto quanto io mi sentivo solo dentro quella casa anzi per assurdo sì per assurdo io ho fatto amicizia con la mia solitudine in casa e il fatto che io fossi costretta a stare a casa ferma non potevo avere a che fare con nessuno mi ha aiutata per esempio a a sedimentare delle robe che io volevo fare e poi farle tipo fare un corso di sceneggiatura online scrivere un film è scritto scritto un film esatto scritto un film durante quando mi ho letto ho ricominciato a leggere la mia poesia poi siccome mi ritengo comunque una persona fortunata perché al di là del fatto che in quel momento avevo un compagno stavo da sola però i miei stavano bene non avevo problemi di solito la mia casa è la mia casa l'ho messa su come la volevo c'è anche un videoproiettore 2 metri per 40 dove guardavo i film è blindata in casa io mi sono goduta questo videoproiettore sul divano mi sono vista qualsiasi cosa quindi adesso non so come ho fatto a superare quei tre mesi poi per esempio anche online ho conosciuto un sacco di gente ho avuto a che fare un sacco di gente sempre un'autrice di torino enrica tesio che mi piace moltissimo ho conosciuto persone ha quindi ha profittato in realtà di quel momento per mi è capitato nello stare ferma io nel vuoto io ho trovato che c'era intanto anche la possibilità di fare spazio a delle novità e non far fermare tutto si quindi in realtà ora non in quelle condizioni drammatiche però io mi porto dentro ancora oggi questo desiderio cioè è successo una cosa strana una parte sono molto cioè da una parte ho capito che non organizzarsi cioè non prevedere cosa succede ti fa tutti se tutti predisponi ti aiuta a conoscere persone a sviluppare delle delle curiosità delle amicizie con delle persone che possono fare la differenza delle persone incredibile può incontrare anche così per strada diverse ambienti e dall'altra vorrei per preservare il coraggio di rinunciare di stare a casa di non avere quell'urgenza sempre stare dovunque che è poi quella che abbiamo noi oggi bravo cioè stare ferma non costringermi però se anche non succede niente di particolare in un periodo della vita esatto anche bello non esserci a volte cioè esserci in maniera diversa perché invece poi magari chissà ragione noi dobbiamo sedimentare si prende forma in momenti anche totalmente diversi senti paolo vista che siamo qua in fare se fabula che profumo al teatro che dora associ tu al teatro beh c'è l'odore del legno l'odore dell'aria secca quando ci sono i termosifoni accesi c'è quest'aria secca infatti noi prima dello spettacolo dobbiamo idratare idratare le corde vocali e poi c'è l'odore di muffa di umidità in alcuni camerini c'è l'odore della moquette c'è sicuramente l'odore di un percorso fattivo è sì sì è proprio un odore di vissuto di qualcosa di organico ecco tutto quello che si sente in teatro è organico è vivo è vivo assolutamente se ti parla che il tuo mito la tua attrice o non solo attrice potrebbe essere proprio qualcuno che dici ma insomma io guarda non si deve accendere ma quando non si può non di meryl streep non c'è niente da fare ultimamente seguo anche la toni colette è un'attrice straordinaria attrice straordinaria che tu c'è un po di toni colette italiana ma io ti ringrazio molto mi piacerebbe anche fare i ruoli di toni colette perché la mamma di about a boy fa dei ruoli poi sempre diversa lega a questo viso che cangiante non la puoi vedere più raffinata meno più con i tratti più forti coi tratti meno fa vero è incredibile bravissima insomma mi piacciono grandi personalità mi piace patricia archet mi piace su twitter sempre la seco strutturita per cerchetti che da bastonate di qua e di là da trump repubblicano però ecco sempre donne che hanno giocato fino in fondo con la propria vita col proprio corpo con la propria faccia donne che rischiano anche quindi che non si nascondono dietro alla scelta sicura diciamo anche kate winslet quindi ti piace certo certo mi piace tantissimo ma il film da isola deserta invece qual è il tuo oddio guarda sai che non è facile perché ce ne stanno tanti te ne cito uno te ne cito uno che ho visto recentemente che tra l'altro parla anche di un'isola deserta che è triangle of sadness ah certo è ruben ostund io sono fan di ruben ostund vabbè ma insomma chi è che non è fan di ruben ostund insomma per forza the square la forza maggiore certo con la valanga e la famiglia che si esatto e quindi non vedevo l'ora stavo aspettando come una fan l'uscita di triangle of sadness e non ha tradito le mie aspettative c'è un grande film senti paolo all'attesa poi continua il suo viaggio poi ricontinuerà anche l'anno prossimo ma nei cassetti c'hai parte la sceneggiatura del film è la sceneggiatura e la sceneggiatura è andata avanti si si è andata avanti ma che idee c'hai su quella c'hai già fatta leggere sì 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 siamo in lavorazione siamo in lavorazione sì c'è già una produzione dietro ci sto lavorando però non ne voglio parlare bravo esatto ma gli altri invece però c'è altre cose altre già fatte poi sì allora girato tre film molto diversi tra di loro di questa cosa è ma davvero paola minaccioni style proprio il fatto di essere eclettica grazie io adesso aspetto ruolo drammatico allora io tipo alla francis mcdorne veramente certo certo guarda l'unica volta che ho avuto la possibilità di liberarmi di qualsiasi conformità estetica grazie a ferza notte che interpretando allacciate le cinture mi sono liberata e mi sono concessa veramente un ruolo solo di parte che io non è che lavoro perché sono bella senso per fortuna non sono legata a certi canoni però hai tutte le attrici devono fare i conti con l'aspetto e luca e quando invece ne puoi fare a meno vinci vinci se c'è ruolo se è scritto bene se è scritto bene no ma non perché io abbia qualcosa contro la comicità io penso che un ruolo tragicomico proprio nelle corde di ferza per esempio è sempre un regalo poi ho fatto alle fate ignoranti con ferza dove interpretavo luisella che una fruttarola si dice a roma convinta di somigliare a brigitte bartone una donna fragile forte quindi quando ci sono le mille sfumature questi questi personaggi indefiniti che sono tutto il contrario tutto come nelle grandi serie americane in cui vedi dei personaggi che si trasformano no c'è il quello che apparentemente all'inizio è buono che poi diventa un cinico diventa cattivo lo giudichi poi invece se dalla sua parte lo lo comprendi cioè una serie preferita ma allora serie preferita all'ultima che una delle ultime che ho visto che mi piaciuto moltissimo è oddio aspetta non mi ricordo il titolo no aspetta perché mi viene scissor ma non è scissione 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 è bellissima c'è John Turturro su una serie di attori bellissima intelligentissima serie meravigliosa quella è quella che mi ha colpito di più quest'anno scritta benissimo sì sì poi va bene vedo ne vedo molte però quelle che ti lasciano il segno insomma sono poche anche perché essendo una grande fruitrice ormai non mi stupisce più niente e no che dicevamo che c'hai i cassetti c'hai tre film allora il primo è una commedia pericolosa 2 per la regia di il fango dei piaci dove faccio questa strega nobile che affronta un periodo particolare della vita che è la menopausa che si lega a una famiglia mostruosa certo mi sono divertita moltissimo a lavorare in questo fantasy e anche a portare il tema della menopausa in modo comico un altro tema altro tema anche Naomi Watts ne parla sempre mi sembra giustissimo e poi ho girato un altro film questo film è divertentissimo poi è adatto a tutti perché c'erano tutti i tipi di comicità prima poi molto era molto divertente recitato benissimo no e poi c'è la guerra del tiburtino terzo prodotto dai manetti per la regia di luna gualano che è la sua terza regia ed è una regista bravissima con una grande grande visione cinematografica grandi competenze bellissimo cast antonio banno al protagonista insieme altra grande antonio banno incontrare un amico di hot corn antonio banno che ha fatto christian adesso sarà nel principio certo c'è una faccia fantastica e anche bravissimo poi c'è paolo calabresi carolina crescentini insomma molto bene ed è un film che diciamo in commedia anche se è un po horror ecco il bollo dei manetti c'è sempre la svolta è un po di genere però ecco un film in commedia dove in realtà noi non è che siamo comici cioè la situazione è comica io faccio la mamma di banno e sono una nail artist nel artist del tiburtino terzo è già c'è dato due cose che molto interessanti e poi e poi c'è il film il nuovo film di alessandro pondi con cui ho collaborato diverse volte in cui è una si intitola una commedia pericolosa ed è un film interessante perché la struttura del giallo pur essendo una commedia infatti protagonista erico brignano e io sono questa una specie di serial killer sono una psicopatica che a un certo punto capisce che nella sua vita lei può avere the power si libera si libera e siccome ai motivi per volersi vendicare ne combine tutti i colori anche questo cioè è un altro dato sono un po una maggiorata in questo film mentre in uno sono una strega del cinquecento in un altro e qui sono una maggiorata verso volontà noi diciamo che no non mi diverte infatti mi hanno messo tutte curva addosso dico ma che è divertente poi mi piace anche fa la vecchia mi piace anche fa la suora di 70 anni invecchiato cioè non ho limiti ma ti rivedi mai ti capita mai di rivederti o anche per caso in tv allora se allora per caso no cioè in genere i film li vedo quando li ho fatti li vedo li vedo però non li rivedo è difficile cioè se qualcuno mi dice dai lo rivediamo perché allora vedi ma ti fa che effetto ti fa a vederti poi ti critichi o una volta che finito sei pacificato a quello che hai fatto dipende ci sono delle cose che mi piacciono che sono soddisfatta altre che penso no potevo fare meglio ho esagerato insomma dipende dai progetti dipende certe volte sono più soddisfatta altre no non mi vorrei vedere però senti paolo per chiudere ti facciamo il giochetto perché noi quello che facciamo sempre i giochetti allora domani sera organizzina cena casa tua e poi invitare quattro persone da napoleone a monica vitti chi inviti io vengo a fare cameriere stupendo apparecchio allora io invito senz'altro ruben ostund giustamente abbiamo invitato non abbiamo citato a dire poi vorrei invitare vorrei invitare forse l'anna magnani ha detto possibili da chiunque no ok gianna magnani robe nostri non li vedo belli li vedo belli in discussione aspetta e poi vorrei invitare adesso faccio una gaffe a vorrei invitare roger federer si appassionata di tennis ma mi piace molto il tenere che sono appassionata però lui è un passaggio e poi poi in poi vorrei la cristoforetti a bello beh si è fatta una bella tavolata varia si sono curiosi di sapere magnani federer un bel bell'incontro poi c'è altri nomi dopo dopo devi rivolgere dopo facciare l'altra cena sì sì senti non lasciamo aspettare altri tre anni per rivederci lot corner da qualche altra parte ci vediamo ti seguiamo dai con molto piacere roma firenze da qualche parte vieni dove sei noi veniamo piazziamo giù in corne facciamo che piazza va bene paola minazione lot corner grazie 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 grazie